Benvenuti a questo primo episodio ufficiale del podcast L'Inglese che ci piace. Ragazzi, have fun! Perfetto, e siamo all'episodio ufficiale, l'episodio numero uno. Partiamo subito con il dire una cosa. Le puntate di questo podcast non sono e non saranno mai delle lezioni d'inglese, ma un modo come un altro per condividere con voi l'entusiasmo e la curiosità che ha sempre caratterizzato sia me che Gina in questo percorso dell'acquisizione, dell'apprendimento della lingua inglese per quanto mi riguarda e dell'italiano per quanto riguarda Gina, perché lei è americana. Quindi divertitevi, cogliete tutto quello che potete cogliere da queste chiacchierate e soprattutto cercate di cambiare prospettiva nei confronti della lingua inglese, perché parlare una lingua non significa conoscerla perfettamente e non significa avere perfettamente davanti ai propri occhi la grammatica di quella lingua, ma significa desiderare semplicemente di sentire il bisogno di comunicare in quella lingua senza paura e con grande entusiasmo. Nella puntata di oggi, tra le altre cose, parleremo del tempo meteorologico, the weather, e scopriremo il significato di una parola, considerate. Come vi abbiamo detto la volta scorsa, intanto subito, immediatamente, protagonista con me. Ciao Gina! Ciao Vincenzo! Che ci siamo ritrovati finalmente! Oggi partiamo! Today it's official, we are gonna go through our five points. Can I say points? You can. Quindi andremo attraverso questi cinque punti che sono del podcast. Il primo, let's talk. Il secondo... The topic. Perfect. Il terzo, a piece of English. Il quarto... The tip. Fantastico! E il quinto, see you soon. Questo lo dobbiamo dire insieme. Il quinto... See you soon. Ok, perfetto. Allora, attenzione, partiamo con il primo topic. Anzi, non il primo topic, il primo step. Perfetto, il primo step è let's talk. E la domanda è, che cosa hai fatto ieri? Che in inglese si dice, what did you do yesterday? Is that correct about pronunciation? What did you do yesterday? Bravo! You pronounced it perfectly. Perché normalmente, ecco, quando gli italiani pronunciano questa frase, what did you do yesterday? Tendono a pronunciarla lentamente. Ma voi, americani, no. Perché come la dite voi? Dimmela quickly. Dimela velocemente. What did you do yesterday? Ma... What did you do yesterday? We melt the words together. We say, sometimes, when we speak quickly, quando parliamo velocemente, what c'ha, what c'ha, what c'ha, what c'ha do yesterday? not, what did you do? We contract, we form a contraction of what, but it's slang, it's not... Ok, 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 però noi dobbiamo abituare, we have to get used to, you know, slang language, perché noi ci dobbiamo abituare, esatto, no? Ok, allora la domanda è, Gina, cosa hai fatto ieri? Diccelo in italiano e poi in inglese. Vai. Ieri ho insegnato all'università, nella sera, perché insegno tra le ore sei e nove, oppure in italiano, ottanta, non ho l'ottanta, diciotto, diciotto, e fino alle otto, nove, dieci, alle venti. Ventuno. Ventuno. Eh sì, sei nove, diciotto, ventuno. Questo è il famoso 24 hours, military time. Military time, sì. Insegno la matematica, la statistica. Ieri insegnavo la statistica e basta. Ho preparato la cena, la colazione, il pranzo per i quattro figli, ho portato i bambini a scuola e basta. Questa giornata, perfetto. Ok, questo in inglese, certo, in inglese. At the university, we can say, possiamo dire, college oppure university. And I teach at night. I teach from six to eight, not nine. And then I cooked. I cooked breakfast and lunch and dinner. And that's it. For your children. For your husband. Yeah, for my family. The kids. Ok, va bene. Io dirò soltanto una cosina che ho fatto ieri. Ho fatto una cosa bella che faccio ogni anno, una volta all'anno. Ho donato il mio sangue. È una cosa che faccio. Mi piace. Ecco, magari questo è un bel messaggio per la gente per dire, mi raccomando, donate sangue. Prova a dirlo in inglese. Yesterday I donated my blood. That's the thing, that's a thing that I do once a year. And this is a good opportunity to spread awareness through people. Spread awareness per, posso dire questo? To people. To people. To people. Alle persone. Perfetto. To inspire them to donate their blood because that's really, really important. Questo è un messaggio per tutti voi. Donate il sangue e contemporaneamente enjoy the English. What, can I ask, what blood type are you? Ah, this is a good question. I guess, allora lo dico in italiano. Questa è una bella domanda, un po' difficile. Dunque, credo di essere gruppo A positivo. I guess I'm A positive. Bravo, bravo. But I'm not sure. Non sono sicuro del gruppo. Non lo so, penso A positivo. Questa è una domanda molto difficile, lo so. Ok, e what's your, come si dice in inglese, gruppo sanguigno type? Blood type. Ok, what's your blood type? Il mio gruppo, immagino, perché questo l'hai detto. C'è un gruppo, bravo. O positivo. Ah, quello è il gruppo che può donare a tutti e può ricevere? Non lo donare, posso ricevere, posso ricevere tutti, ma non posso donare a tutti. E se è O negativo, sì, ma positivo no. Ok, ok, ok. Perfetto. Questa è una cosa che non sapevo. I didn't know that. That's... So I can receive all blood types, but I cannot give to all blood types. Only type O negative can be given to all. Ma divago, scusa. Perfetto, no problem. Ok, let's go. Andiamo al secondo step del nostro podcast, ovvero the topic. E il topic di oggi è, classico argomento di cui parlano tutti, the weather. Allora, questa anche in Italia, eh? Quando tu incontri una persona, ah, ma guarda, che bella giornata, probabilmente domani piove, oggi così, eccetera, eccetera. Dicci un po', a proposito del weather, il tempo, Gina, in inglese, quali sono le frasi più comuni che si usano per parlare del tempo? Diciamo frequentemente un bel giorno. It's a beautiful day. Quando c'è sole, per esempio. Yes, quando c'è sole è un bel tempo. Anche diciamo, madonna mia, oggi fa schifo. Il tempo fa... Today the weather sucks. The weather sucks, per dire fa schifo. Quando è grigio, quando c'è... Quando sta piovendo, quando non è possibile andare fuori. So when it's not possible to go outside, or if it's raining, or it's grey. Per esempio, se è nuvoloso, credo si dica it's cloudy. It's cloudy, sì. C'è vento, it's windy. Se devo dire, per esempio, è una bella giornata, ricordo qualcosa tipo It's a sunny one. È possibile? Taglia la parola one. It's sunny today. It's sunny outside. It's sunny, punto stop. Ma... Dici, it's a sunny one. Ma questa è una cosa che è speciale di te. È una... È una... Non è sbagliato. Non è sbagliato dire, ma non è comune sentire. It's a sunny one. È più comune sentire. It's sunny. Ok. Se devo dire, per esempio, è freddo, fa freddo? It's cold. E se devo dire, per esempio, noi diciamo molto spesso in italiano, fa un freddo cane. Per dire, fa molto, molto, molto freddo. Se devo dire questo? Sì, ma normalmente usiamo una parolace con questa frase. E dico con essenza la frase. It is effing cold. Allora, attenzione che quel effing in realtà è una beep. Noi dedicheremo, we are gonna have an episode completely dedicated to swear, how to swear. Si dice così, is that right? Sì, yeah, how to swear. Perfetto. Or curse words. Diciamo in inglese, we say, he curses a lot. In cursing, questa è la parola uguale con parolace. Ma in italiano diciamo, stai dicendo parolace. Ok. But it's, è un verbo, to curse. To curse. To curse vuol dire che dire parolace. Ok, comunque questo dedicheremo un intero episodio. Però the weather, it's ok. Allora andiamo avanti. Andiamo con il nostro terzo step, che è, dicelo tu. Ah, aspetta. Un pezzo di inglese, un fragmento di inglese. A piece of English, perfect. Ok, e per un pezzo di inglese, oggi a piece of English, noi condividiamo una parola. Ovvero, considerate. Che vuol dire? In italiano, considerate? No. Si dice? No, no? Inventate questo pronuncio. You made it up. Perché considerate è educato. He's considerate. È carino, anche carino. Carino, educato. Credo che sia propriamente educato. Adesso mi stai lasciando venire un dubbio, però lo possiamo controllare magari nel frattempo. Penso che educato è una persona con un grande livello della scuola, di educazione, sì? In inglese? Esatto. Considerate premuroso, riguardoso, sollecito. Cioè, attento, attento, attento alle cose. Per esempio. Rispettuoso. Rispettoso. Rispettoso. Per esempio, facci un esempio, Gina, con una frase in cui usi considerate. Stai attento. Considerate. Considerate. Yeah, ma forse questa è la mia pronuncia, ma quando scrivi ate alla fine, ma quando dice la parola in inglese we say he's considerate. Ah, considerate. Ok, considerate. Grazie. Thank you for correcting my pronunciation. By the way, could you, puoi farci un esempio di frase con considerate? Ok, so, we, I would say, Luciano, il mio bambino terzo, numero tre, chiamiamolo, lo chiamiamo numeri, uno, uno, due, tre, quattro. Fantastica sta cosa, vabbè, adoro. Ok, so, I said that Luciano was considerate the day he was born because my water broke before Gaetano left for work. E questo esempio forse è un po' difficile comprendere, ma ti spiego in italiano. Brava, vai. Non so come si dice, l'acqua è rotto. È rotto le acque, quando si rompono le acque, che in inglese è? My water broke. Ok, mi si sono rotte le acque, si sono rotte le acque, perfetto. È mio marito, è, he was driving un'ora, un'ora e mezzo al lavoro. So, he was driving an hour and a half to get to work. Aveva bisogno di un'ora e mezza per andare al lavoro, perfetto. Dato che le tue acque si sono rotte prima che lui andasse via, perfetto. Quindi questo è stato premuroso da parte di tuo figlio di nascere prima che Gaetano andasse via. Sì. Perfetto, bello, bello. Facciamo insieme. Perché non posso... Per esempio, possiamo dire, non so, I have a friend of mine who is so, so considerate with me or to me? With me? I think... Who is considerate? Stop. Yeah, stop. Who is considerate? Ho un amico, ho un amico che è così premuroso. I have a friend of mine who is so considerate. Is that right? Yeah. And, ad esempio, questa persona chiede se hai tempo di parlare. Non... So, like, a person would ask, do you have time to talk? Hai tempo per parlare? And not just start talking without your permission. Allora, questa persona chiede il permesso, se hai tempo, e stai pensando delle persone altre da su stesso. Ok, ecco perché all'inizio io ho pensato istintivamente anche di tradurre considerate con educato. Perché, quindi, scusami, considerate è simile a educato. Is considerate similar to polite as far as the meaning is concerned? Yes, but does educato vuol dire educated? Educated. Ok. Sto chiedendo perché quando sento la parola educato penso di una persona che ha ricevuto una laureata dottressa. In quel caso però è più istruito, una persona istruita, che ha una laurea, che ha un titolo. In italiano si dice... Anche se in realtà si parla molto spesso anche di educazione in termini di titolo di studio. Sì, insomma, sì, sì, sì. Però comunque, ok, considerate... Yeah, polite is a synonym for considerate. Ok, perfetto. Because the person considers other people's feelings, other people's time, they consider, meaning they are thinking about... Stai pensando degli altri. Pensi agli altri, certo. Hai priorità agli altri. Not only... Not only themselves. Ok. Inconsiderate would mean they only think... È un egotista. Egoista. Un egoista. Egoista. Che dovrebbe essere in inglese selfish. 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 Ok. Possiamo passare al quarto nostro step, ovvero the tip. Ok, il consiglio che vi vogliamo dare io e Gina per poter acquisire quanto più inglese possibile oggi è, per esempio, farlo divertendosi guardando le serie in Netflix. Tu guardi qualcosa in Netflix, Gina? Sì, sì. Cosa guardi? Dipende dal mio umore, ma mi piace parlare, scambiare le lingue in italiano. Ovviamente tu li senti in italiano, è chiaro, sì. Sì, sì. Ma usiamo Netflix con tre modi. Sì. Con la lingua in italiano e i sottotitoli italiani. Con la lingua in italiano con i sottotitoli in inglese. E la lingua in italiano senza i sottotitoli. Sì, certo. Sì, sì, per me. E immagino è lo stesso per te, ma in inglese. In inglese. E tu fai questo a seconda della difficoltà di quello che stai guardando? Cioè, per esempio, se è una cosa molto più complessa, parlano più velocemente, magari usi i sottotitoli in inglese? Chiedo. Sì, perché ho visto Simura e questo è un romano di letto. Ah, è difficilissimo. È difficile comprendere. Il livello è più avanti a me. Davanti a me? Davanti a me? E il livello, puoi dire il livello è più alto? Più alto. Ok. Can you say that in inglese? Because you shared three different things you do on Netflix. Can you share that? Puoi dire in inglese? Yes, sì. First, I changed the language to Italian and watch with Italian subtitles. Or I watch with the language in Italian with English subtitles. Or I watch with the language in Italian without subtitles. Perfetto. Stessa cosa che voglio aggiungere io, insomma, per Netflix avete tantissima scelta. Scegliete qualcosa che vi piace vedere e possibilmente provate a guardare questa cosa. Mio consiglio personale, io ad esempio guardo in inglese con sottotitoli in inglese. Non ho mai utilizzato i sottotitoli in italiano. All'inizio ho fatto tanta, tanta fatica, ma adesso va meglio. Dico questo in inglese. Try to use Netflix as soon as possible and as much as you can to improve your language. When I started watching something on Netflix, I used just subtitles in English. I didn't want to use a subtitle in Italian. I struggled a lot in the beginning. That was very, very hard for me. Yeah, that is okay. Yeah, that is okay. È vero. Perché ho sento, non ricordo da dove, ma ho sento un pezzo di informazione che ha detto se senti una lingua nel sottofondo, background, in the background. The background, sì. la tua mente comprenderà poco a poco, piano piano. Certo, è vero. So you don't, you have to be, devi essere scomero con la, no, devi essere comero con la scomero. Ok, devi essere, devi sentirti comodo nell'essere scomodo, nell'avere il viaggio. Bella, bellissima questa cosa. Di nuovo in inglese. You have to be comfortable being uncomfortable. Yeah, ok. Questa puntata è stata fantastica. Passiamo alla quinta e ultima parte. Il see you soon. Ok, Gina, questa puntata è finita. Ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima. Di qualcosa in italiano e in inglese per salutare i nostri amici e ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, è stato un piacere. So thank you all for listening and it's been a pleasure. We will see you next time. Perfect. Bye for now. See you next time. Ciao a tutti. Ciao a tutti.